Bene, buongiorno a tutti, benvenuti nella sala delle conferenze della Banca d'Italia dove a breve, anche se molto presto stamattina, iniziamo subito questa conferenza perché abbiamo avuto delle notizie fenomenali e ci troviamo come unico nostro relatore il professore Maupis da Milano, professore esperto e anche professore all'Università della Bocconi di Milano Professore, il tema di oggi è linee guida in materia di continuità operativa delle infrastrutture di mercato di maggio 2014, quindi siamo in pieno periodo per spiegare a tutti i nostri fruitori di cosa sta accadendo Prego professore, iniziamo subito